ciao amici ah ah allora lasciamo lo stesso la lasciamo qua in basso amici e amiche mie come va come la va allora dai cominciamo a fare un po di warzone non può fare le bird singolo dai 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 si sta allora condividiamo la ciao la live come sta ciao sto liberamente ciao chi è? ciao amici ciao amici di twitch come state? incominciamo intanto che arriva Morris, Giovanni e Chris allenatevi finché potete, tra poco entrerete in campo ok 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 Leo mi chiedi la porta, ma se facevano trap burdel allora andiamo alla barca non riesco a beccarlo con un mitagliatore basta giocare così è spettacolare bravissimo Sharder, spettacolare sono in live con Warzone se vuoi venire bellissima, grazie mi ha fatto una livrea ragazzi per Gran Turismo Sharder, bellissima ciao amici di twitch, benvenuti raghi ormai il gas è troppo vicino alla zona sicura porca ma perché, ma perché perché gli sparavo sulla corazza forse perché gli sparavo sulla corazza e lui mi ha sparato in testa eh sì un po' effettivamente un po' effettivamente ci sta ciao amore mio si caspita forse è proprio passata quando mi è di altro tipo ciao a tutti sono senza cellulare non posso farlo salire benissimo sì appena partito non c'è ancora la Morris sono senza cellulare allora aspettando la rappresentazione vale andiamo bene non c'è ancora ciao amici di Twitch ciao amici di Twitch ciao amici ciao amici dai proprio Vito ciao ciao no Leo dai tutta sera così eh no non l'ha fatto niente tutto pronto la zona di guerra vi aspettano ciao amici i Twitch grandissimi non è gelato Olli vai te lo lecca vendilo Olli no ciao Bragali ciao amici ciao a tutti ragazzi eccoci qua ciao 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 allora vediamo un attimo cerchiamo eh qualcuno è qua un edificio di fianco sicuramente adesso andrà eccolo lì hai visto bellissimo c'è uno è sopra 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 vieni no dai ma perché ma perché ma per che guardate guardate una partita se io sparo non sparo la connessione migliore qui c'era quello la dai dai sempre quello lì sapevo che c'avevo quell'arma lì però è perché sono andato in quel punto lì che abbiamo il punto ho visto qualcuno bella ragazzi bella ragazzi sì 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 per quando entrano i ragazzi dovrebbe entrare mitico morris in teoria in teoria in teoria ciao amici di twitch benvenuti ragazzi caspita c'è qualcuno ciao giovanni dov'è chris entra dentro entra dentro che giochiamo siamo io te morris morris tu hai la possibilità di sentirlo giovanni ho fatto anche party no no ma dove ero di fianco ciao amici di twitch benvenuti ragazzi dai ma perché la mia 22 giocatori ma chris non può giocare può almeno entrare nel party comunque 5 minuti accendo ok ok chris non gioca va bene allora provo a sentire samuel se viene e morris tu puoi sentirlo samu vuoi giocare con noi con la play warzone fammi sapere allora 5 minuti faccio tempo a farne un'altra allora sì 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 assolutamente sì giovanni fallo entrare fallo entrare nel party farà da commentatore dai ok raga ok 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 cinque minuti accendo va bene va bene va bene giovanni diede a chris che può entrare il party vediamo un attimo allora io il party con moris l'ho fatto ma perché non mi quando accendi dimmelo che ti metto dentro nel party è una roba assurda anzi facciamo una cosa esco da questo party sì 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 assolutamente sì sì assolutamente ok vado dentro in amici di twitch ok raga così può entrare sia moris che guarda che siamo ancora in pre lobby sì sì che top mi guarda dietro games di fianco guarda io ho messo la sua del 98 design si sta bella sì poi l'ho messa anche davanti anche come sta bene sì caspita faccio fare le livree deve farci anche la pubblicità grandissimo sharder che stava fatto lui per lui guarda anche questa no no bravo bravo l'amico sharder dai ragazzi forza animiamo la chat animiamo il tutto ciao sharder stavo parlando di te grandissimo mi hai sgamato mi hai sgamato mi hai sgamato grandi ragazzi grandissimi grandissimo design ho fatto vedere mia moglie la macchina che fatto è veramente una bomba grazie grazie sharder mi hai sgamato che ti stavo che ti stavo oh no 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 vado a prendere il corno subito attenzione allora mi sto un po' amore chiudi la porta tesoro no ma perché saltano madonna quanto odio chi salta ma guarda ti salti ma che velocità hanno ma questi qui giocano con pc per forza sono pure come sponsor ci sono pure io come sponsor mi devi pagare ma come ti dico ma sei tu che mi devi pagare ma queste cose di pagamento non abbiamo capito come funzionano le sponsorizzazioni vabbè non fa niente seppure lo sponsor mi devi pagare non abbiamo capito nulla come si fanno le sponsorizzazioni grande shot ma dai ma dai ma ha sparato dove va 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 ma come fanno sono troppo vecchio ragazzi per sta roba io ok eh si diciamo che tutto 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 mentre sono in live ciao amici miei allora oh 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 un botta una botta di lag tremenda ci manca solo lag ah ma puoi chiudere la porta dai 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 ma cazzarola oh l'ho ammazzato con una sberla l'ho ammazzato con una sberla ho fatto con una bole da si con una sberla hai visto cazzarola oh che cazzarola io mangio ragazzi ue l'ho ammazzato con una sberla ue l'ho ammazzato con una sberla ue l'ha grandissimo porca miseria faccio di equipaggiamento per voi amica domani garete va bene ciao pierpaolo buonasera mi hai invitato nel party si si vuoi venire vuoi giocare ti va va bene mi va ok aspetta guarda che sono veramente 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 sempre morto eh te lo dico oh sharder senti sharder sharder ti sente si ah no aspetta che senti c'è anche il mitico pierpaolo aspetta sharder oh c'è pierre grande pierre ciao pierre buonasera buonasera a tutti buonasera ciao bravalli allora eh forasiero grande pierre si ti stanno salutando beh si penso che sei in live comunque aspetta che stiva oh oh allora finito adesso eh pierre intanto che carichi bam ah si già dentro da che esco allora lo devi solo invitare aspetta tanto era una partita che non era niente di che Giovanni entra anche te Giovanni grandissimo Giovanni allora aspetta sto uscendo mamma mia ragazzi sono veramente stanco oggi veramente stanco sarà allora il tiburon aspetta Giovanni ok grande Giovanni ciao inviciamo parti ciao allora vediamo il grande tiburon ciao 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 Giovanni ciao c'è anche grandissimo il tiburon stasera allora vediamo un attimo allora Activision c'è arrivato Giovanni c'è arrivato allora no perché non ti vedo da nessuna parte grande il tiburon pierre caspita sempre il solito discorso pierre paolo mi senti non lo so avevo staccato le cuffie che stava piangendo ah ok eh sì 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 no no non ti vedo nella c'è sponge bob però ah 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 io ti vedo e ti riesco pure a mandare lì allora dai fai tu fai tu invitami ah ok ok perché non non ti vedo io ok vabbè allora eh Giovanni adesso ti invito da il mitico pierre paolo aspetta non ho capito nulla entro io in tuo gruppo aspetta ti ho invitato io mi invita in party mi invita mi invita entra dentro qua perché non riuscivo a vedere il tiburano adesso lo vedo vedi non so perché fa così oggi tanto sì sì ti ho invitato ti ho invitato ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi seratina un po' tranquilla beh sì volentieri ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi grandissimi ok vai pure Pier grande Pier sì sì siamo in tre non c'è nessuno stasera in realtà ero da solo per quello che mi sono trovato ah ok ero da solo perché ho detto grandissimo Pier Paolo ho detto stasera farò una live da solo e spacco il mondo però le prime tre partite sono andate veramente malissimo quindi ecco vabbè speriamo che ci sia qualche amico quando hanno fatto la nuova stagione in che senso hai cambiato in peggio Simone prima Simone prima ah bene con due o tre colpi Cadigi non è tanto bene allora eh sì poi ho notato ciao Matt non vi sento in party e come è possibile siamo in party siamo in party di play attaccati alla live Matt tu ci puoi sentire errore non mi faccio entrare nella partita e non nel gruppo non viene nel gruppo giovane Padovan grande giovane Padovan ma non eravamo in tre perché c'è entrato qualcun altro allora sei dentro giù no oh porca miseria ma che tipo di errore te hai dato si prova 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 allora allora perché c'è dentro un altro quindi che facciamo abbandoniamo eh dai abbandoniamo sì tanto non è neanche partita però devi farlo tu vero Pier sì grande aspetta Giovanni no la persona mi fa entrare nella gruppo neanche eh aspetta però era pieno eravamo in partita prova adesso muo salti da una granata prova adesso muo salti da una granata allora ci riesco così ciao giovane Padovan allora prova a vedere se entriamo dai così partecipo per cosa partecipo Johnny si è unito ok perfetto sì ci sono perfetto perfetto dai ma non ti vedo aspetta vai 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 Pier andiamo andiamo a manetta ciao amici di Twitch una mega una mega lascia l'aperta bravo bravo magari abbassi il volume e fai pubblicità grandissimo giovane giovane no no giovane Padovan johnny giovanni sì vai io faccio questa cena e poi ritorno va bene va bene tranquillo come vuoi tanto stasera è divertimento puro tra amici faccio questa cena e poi ritorno ok perfetto perfetto Pier grande grande Pier scorte cassa di io non ho capito in questo grande ambaradan che cosa c'entrano quei Godzilla e l'altro robo gigante ma noi dobbiamo sparare la Godzilla l'evento sì dobbiamo fare tutti contro Godzilla o King Kong no c'è tutti e 100 contro Godzilla o King Kong ma già che figo solo il 12 maggio che figo no parte da l'unica ah ok non è soluzione è dura è Godzilla o King Kong qual è io Godzilla tu cosa dici Idem Godzilla top ah però anche King Kong si è proprio no ma Godzilla dai ah si così in pratica nella mappa sono le 100 persone 50 fanno il team ma non c'è proprio Godzilla si gli altri devono aiutare King Kong ah ma c'è proprio Godzilla della mappa è quello che vuole capire che figata assurda ma comunque Chris ha detto che c'è un momento proprio al faccio ma devi seguirci con la live quella di Caldera sì sì no vabbè è chiaro questa qua è troppo piccola proviamo ad andare a chemical dai metti il puntatore gran pierre perché sai che io non ce la faccio capire dove cazzo dobbiamo andare ok 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 raga dai vai grande grande braga di grande grande allora chemical aspetta perché poi pian pianino sto imparando qui sulla sinistra sulla sinistra ah ok ok l'ho visto verde vai 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 vado avanti seguici eh ok vai apri porta oh sono già dentro eh guarda attenzione oh cazzarola no no non aprite con la porta oh non aprite con la porta non aprite con la porta grande grandissimi raga ok andiamo giù io devo prendere qualcosa perché sono veramente prendiamo i soldi che servono per il lockdown io ho 100 stiamo tutti insieme oh va che c'è un'arma qua oh che bella un po' pesantuccia ma c'è sempre bene dalla pistolina vai in giro con le pistoline niente soldi no niente soldi raga io una mila e due andiamo giù ancora più basso eh sì ma qua di casa non c'è punto di raduno stabilito quanti soldi no c'è sono andato poco di un bombo vado laggiù del party ma già può qualcuno fare il bombo eh sempre così ho preso una come si dice una piastra ok non c'è nessuno eh allora datemi i soldi che avete qua dove sei? aspetta qui? aspetta allora eh no così triangolo triangolo no no triangolo ragazzi datemi i soldi ragazzi aspetta che qua c'è un cassone quanto mi ha dato? mi ha dato un soldo come il gas ci raggiunge? vedi già vado ma non so se ci sente dai soldi pure il gt oh e byst non do i soldi nessuno ok non bastano qui c'è il cassone però ah no non si può andiamo a harbor andiamo a harbor andiamo a harbor andiamo 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 c'è qualcuno dai 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 andiamo a dove dice oh dietro dietro caspita non ti posso eh aspetta ah cacchia rolai ah cacchia rolai ah cacchia rola cioè ma sai che mi ero appena rianimato si è alzato mi stavi rianimando tu tra l'altro pierre eh si che balotto quello la ah johnny poverino la tristrissa ah 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 ohia ti riesci a rianimare eh io no sono un mirtus adesso arrivo però forse forse ti riesco a rianimare si si ti stanno rianimando no ma non c'è anche un'arma ci servono soldi eh io ho 200 vuoi? ahia attenzione vedere scusa vedere è lo spirit ho mangiato l'aereo è meglio che ce ne andiamo oh ce ne due tra l'altro c'è un altro qui eh attenzione che c'è un altro sulla scala vedere la foto ce ne andiamo? andiamo via ah mi vietta la ciotola mi ha fatto vedere la tua libreria non vede uh raga grande 25 rimasti dai al dato dov'è che è posizionato questo qua che ci continua a massacrare guarda dietro raga no ha fatto il giro scusate raga sono muerto ma no ma no il charlie sono morto vero è che il problema è che non è che no dai aiuto ma dai ma c'era una bomba sopra fortissimo quella lì ganso johnny qualcuno c'è che mi dà una mano sta vivendo da voi grande johnny vieni c'è uno qua però eh si è sopra quel balordo che ha messo una bomba grazie c'è non c'è neanche una nulla le viste ci sono maschere antiche ah sei tu cosa ci sono maschere antiche fuggili arrivo dove 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 attenzione arriva uno no dai ma va quel paese cioè non arrivano neanche attenzione ragazzi sta venendo uno da sotto eh dai guarda che roba c'è le esplosioni quelle delle munizioni quelle esplosive quelle col col fuoco nebula 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 non riusciamo ad affumulare i soldi no dici che riusciamo a spostarsi da qua o già troppo tardi ormai si andate verso il lock le armi andiamo i simboli celesti andiamo verso il simbolino celeste dai raga quello più vicino e qui c'è 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 johnny chi è il simbolino blu johnny c'è è giovanni è giovanni è vero si grandissimo c'è grande avete preso le armi eccolo là eccolo là no io sto morendo no 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 ma come fanno entrare perché da dietro da dietro guardalo ci ho preso tutte due grande padawan a un certo punto non c'è più un rientro vero raga il rientro poi finisce dopo questo mi fai di là ah basta stiamo già cazzo sta arrivando un nemico attenzione vai pado vado mischiera uno allora ci abbiamo i soldi ho bisogno andare via bisogna andare bisogna andare dentro andiamo dentro ai 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 ciao amici di twitch eh si è vero è vero è vero dai dov'è che mi ha sparato questo qua ma si è da rischierare si come faccio senza soldi oh non abbiamo beccato soldi sta partita incredibile ma i soldi si becca come eh ammazzare le casse eh giovanni quanti è molto si si va beh è la prima dai è la prima questa qua vedi già presa dalla cassa 700 oh eccolo lì grande pierre grande non finisci di tornare si è vero è vero eccolo 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 masco fucile spara tre alla volta mamma mia ragazza attenzione alla nebbia nebbia caspita anche la nebbia se voleva eccolo qui dove è andato oh ho fatto il giro grande grande pierre i soldi anche eh vabbè troppo tardi la nebbia grande cinquinti ragazzi grandissimi quinti di cento no 60 non so quant'era è 40 60 e quando sarà questa ok perfetto dai a dopo buona cena no è morto tutto ciao ciao bello ciao 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 no è morto tutto ok allora rifaccio io raga eh si è uscito a tutti mi sa ok ok Godzilla mi spari il laser vabbè rimango nel party tanto fra un quadro si dai vai tra vai tra vai tra a dopo ciao buona buona cena grazie Godzilla vs King Kong vedi che King Kong è cattivo che va Godzilla c'ha adesso vi vi rinvito raga e rimaniamo così in tre perché sennò dopo quando rientra il grand pierre beh poi è un casino allora aspetta che vi invito allora Giovane Paduan ok chi è? allora l'abbiamo fatto l'olla l'olla io sto giocare da solo no tu dovresti venire nel mio gruppo io uso così eh sto rientrando senza l'invito eh rientra rientra bravo ma si può giocare con loro no? se hanno loro il mostro se hanno loro loro sono grossi Godzilla e King Kong oh Johnny è qua e Giovane Paduan l'ho invitato eh vediamo se riesce ad entrare che non ci sente dal party ma non ha capito me aspettiamo un attimino se entra il Giovane Paduan forse ci scrive qualcosa ciao ragazzi io Giovane Paduan non lo vedo vuoi entrare? è vero o no? non mi è arrivato l'invito allora ciao ciao grandissimo grandissimi ragazzi Giovanni allora perché la Giovane Paduan non è arrivato l'invito stai calma stai vedendo amore fai troppo bordello? si oh grande si è unito bravo bravo hai fatto bene hai fatto bene eccolo qua dai terzetti ragazzi e non scherziamo grande grande Matt allora dobbiamo ma è grande Joe Morris per caso è in live? no io lo chiedo io scrivo vabbè e scrivili ma vuoi venire a giocare con noi o non puoi eh non lo so se non è entrato può essere che magari non puoi oh ciao grandissimo oh ragazzi io non mi ricordo mai ma se non vi siete iscritti iscrivetevi al mio canale grandissimi ciao ciao Aldo grandissimo dai dai ragà dai ragà che si spara ci si diverte ci si fa un po' di addestramiento speciale oh che bella che bella morte che bella kill così tanto per eh vabbè insomma questo film ha beccato da un chilometro e mezzo grande 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 Aldo grandissimo allora diciamo che qui la preloby per fortuna che è la preloby perché se no ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi grandissimi grandissimi seratina oggi venerdiamo oh c'è holly ragazzi che è completamente quasi semi morta sull'altra parte del divano stanchissima ha fatto tantissimo oggi chissà cosa avrà mai fatto ok dai andiamo ragazzi ti meti coin ah spero tu ti meti coin chi tu grande grande oh ma sai che ultimamente c'è sul computer non si sta aggiornando tanto bene la i feed attivi e le cose così non riesco a vedere tutte le cose spero tutti i miti coin grande grande Giovanni 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 si si tutti i miti coin grandissimo dove andiamo ragà ci rimangono 420 di 3.000 bravo allora sei tu il capo squadra Giovanni metti il segnalino dove ho led dai dai andiamo a prison andiamo a prison è questo qua gigantesca non credo che sarà una buona idea no non è che ci prenderò no no ormai sono qua allora ci siamo ok Johnny bella padawan aia si è sparato no secondo me è sopra il coso è sopra il è la col cecchino dobbiamo andare giù vai mettiamo dentro oh no il prison è pieno attento attento il prison è pieno bellissimo beh c'era uno era proprio qui tranquillo lui siamo cesi ah 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 bellissima grande partita ragà wow top bellissima 0 0 0 beh dai tu hai fatto almeno hai fatto almeno 200 padawan e tu hai fatto 50 io niente proprio bellissima Chardo era una bellissima partita top of the pop ma sono io che devo uscire qui ci sono soldi mi sa che sono io che devo uscire ah si è abbandona con il compagno perché ho messo proprio la webcam sotto dove c'è tutte le cose da fare godozilla terzetti oh come mai aspettiamo un membro le parti ok che cosa ci sono ma che sta arrivando della bocca non so se lo aspettiamo sta proprio arrivando adesso 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 eh mi ha scritto sta arrivando ok allora dai non lo so va beh tanto che ce ne frega usciamo da metà usciamo a metà usciamo a metà noi moriamo subito iniziamo a cercare poi quando arriva usciamo allora grandissimo giovane padawan quando arriverà allora arriva a moris giochiamo in quattro quando arriverà il mitico il tiburon se puoi uscire un attimo tu ok così poi dopo facciamo un po' tu e johnny ti va bene giovanni è un po' alle 10 e 20 devi chiudere eh perfetto dai sì esatto esatto dai facciamo così così almeno riusciamo a giocare tutti ragazzi perché il problema di questo mitico warzone è che io mi butterei fuori io raga ma poi non si vede niente in live quindi non è una buona idea facciamo così matt allora quando entra il tiburon esci esci tu un attimo gioca il tiburon e poi qui non dava via johnny il mitico giovanni entri tu al posto di giovanni così riusciamo a giocare tutti ma mi raccomando infatti 3 4 5 partite sono già le 10 e 20 non è che allora se hai capito tutto giovane padrone scrivimi in chat e fai partire quella quella figata ti sento basso io non lo sento io non lo vedo ciao amici twitch benvenuti ragazzi si si invita invita ma in teoria dovrebbe già essere arrivato a tutti l'invito però perché ho aperto il party di amici di twitch quindi sono entro tutti quelli iscritti non parte neanche la partita aspetro a fare un po' cazzo benacardi tv ciao io devo andare nooo sharder ma non torni più amico mio va bene dai ciao stami bene buona serata ci vediamo domani con gran turismo mi raccomando mi raccomando mi raccomando allora domani dovrebbe essere le tre del pomeriggio però ciao roberta ciao roby però penso alle due alle due o tre dai due o tre andiamo con gran turismo sette ciao roby e vedi che mi sono ricordato che sei roberta grandissima che c'ha la capa sì perché mi ha ricordato mia moglie se no per me ciao ciao roby grandissima grandissima grandi ragazzi buonasera oh maurizio grande ecco qui che arriva i miti con moris allora digli invitalo invitiamolo qui grandissimo moris ah grandissimi bella lì bella lì Aldo grande il lobby baggatissima Aldo è baggatissima questa lobby allora perché moris ci sta invitando e non lo vedo dai invitalo tu invitalo tu così rifatte la partita dici di rifare la partita addirittura perché non parte più allora dai andiamo da andiamo da moris Aldo ci dice di 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 farla no ma non mi è arrivato nessun invito a me perché non mi eh infatti ma io non sento il grandissimo aspetta aspetta vado un attimo adesso ti ti vi rinvito ragazzi ma Pier non ti sento non sento la tua voce grandissima Roby bellissimo il cuore così allora eccolo qua Pier non so se no non so se Pier ci ha invitato è rimasto il oh tu vedi Johnny benvenuti io sono in una mano al gruppo sei dentro un occhio aspetta eh ragazzi scusate un attimo questi tempi morti ma purtroppo Cove of Duty è un bordello ok e dov'è Johnny ok perfetto eh il tiburon mi è arrivato l'invito adesso quindi credo che si 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 è lui è lui si vede che non può attivare il microfono però sta giocando va bene va bene grande Maurizio grandissimo allora aspetta che sento un attimo io devo farmi dare sentivo non potevo non potevo usare il microfono ok ciao Morris Marco ciao bello ciao Mitico mi devi dire come si come si fa a far sentire dalla live le persone su il party allora aspetta allora aspetta solo un secondino scusami ma facciamo una partita che c'è dentro il giovane Padawan e poi vieni dentro tu intanto ti spiego come si fa a mettere l'audio allora fallo tu che te lo dico allora vai in impostazioni della playstation ci sono allora c'è la la parte quella più bassa condivisione forse sai quella dove c'è la telecamera trasmissione trasmissione c'è qualcosa tipo condividi l'audio del party o roba del genere l'audio prova a vedere l'audio bravo si l'ho fatto c'è la condivisione del party aspetta proviamo proviamo e la allora se c'è la condivisione dell'audio dovrebbe funzionare cioè anche quando fai la tua live ci sentiamo almeno le nostre voci capito moris si proviamo vediamo eh ma anche prima pierre faceva così quando eri a mangiare sai siamo riusciti a farne una beh ma questi fanno gli aggiornamenti per peggiorare la roba io non ho capito sinceramente boh è proprio una questione di serve beh caspita però è l'activision eh la trova e poi ci fa uscire la trova e poi ci fa uscire si 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 ma dico l'activision non è che ha 4 server l'activision potrebbero anche mettere un po' Marco dimmi tutto va il problema la tua voce si si sente ovviamente ah ok il problema che si sente male perché forse sarà troppo alzata io lo sento bene allora tu la mia voce la senti male ma la la senti perché è troppo alta o tipo distorta eh la senti troppo distorta eh si aspetta che provo a abbassare un po' magari è solo una questione di volume aspetta eh no comunque si sente beh dai già è già un passo avanti si ti sente ok adesso l'ho abbassata un po' aspetta aspetta un secolo hai fatto tu la partita? lobby chiusa allora il tiburon e Johnny andiamo da Morris allora giovane paduan scusami facciamo che invitiamo andiamo un attimo andiamo un attimo noi di là io non vi sento proprio e poi dopo ti invito dopo eh grandissimo scusami se dobbiamo far così ma purtroppo quando c'è troppa gente è un un delirio allora ti piace la mia schiena Morris vediamo scrivi eh Matt eh lo sono sentito così scusa Matt vedo giochiamo noi quattro e dopo ti invitiamo dopo scrivilo perché magari non lo senti è affistato il battle pass no davvero grande ho anche i fucili mitra leggendari scusami Matt eh davvero scusa tanto ma siamo in tanti siamo in tanti dopo appena va via eh Johnny che tanto ha detto che fra una ventina o venticinque minuti trenta minuti va via entri tu e giochiamo noi eh grazie grazie oh mi raccomando Matt rimani dentro nella live non dire che ci hanno passato di nuovo il rango sì l'ho visto tutte le mimetiche io sono quattro adesso che balle però eh ero arrivato a 60 io non vedo l'ora che mi sblocca la mimetica arma d'oro eh ma per fare quella di sbloccare tutte le mimetiche giusto bu sono a 7 su 35 madonna ce ne vuole ancora però eh 7 su 35 sì allora vediamo tutta questa facendo ma adesso Morris tu hai hai anche Vanguard ad oggi eh quindi si potrà fare anche qualche bell'allenamento a Vanguard insieme a Michele ma tu è cosa? scusa ma qua appena esce Giovanni vieni tu a giocare con noi il posto è tuo vieni anche un'altra 66 kg perfino io le ho un'altra allora dai secondo me 66 kg Morris le fa in una partita ok? va bene? no no in realtà a me ne mancano 44 si può fare si può fare se ci fa giocare ragazzi il problema non è farle e se ci fa giocare come dice Aldo no anche a me esce Giovanni sì? sì ti trova la partita e poi ti fa uscire vabbè ragazzi possiamo stare qua tutta sera no 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 non c'entri tu anche a me prima e anche il mitico Pierpaolo è andato a mangiare abbiamo fatto una partita siamo riusciti a fare figa in mezz'ora caspita ciao amici di Twitch grandissimi mia moglie mi tira dai capelli allora ragazzi provate ad uscire col party con tutti però si bravo poi bisogna rinvitarsi tutti non ci passa più abbandona col party giovan comunque il tuo bitmoji è bellissimo sì è vero con i soldi giovan puoi vedere Pia oh l'ha approvata oh no se che è vuoi creare i tuoi bitmoji giovan ti ho mandato un messaggio Pier mi si mi manda il tuo amo che cosa ragazzi accumuliamo subito i soldi che facciamo oh dai che parte dai che partita raga dai che partita dai bro guarda cosa ho creato dai bro dai bro dai bro è bello oh oh prima partita dai dobbiamo fare 60 kill a testa vai dimmi tu ovviamente dimmi tutto Pier oh già va ma lord lord allora penso che questa volta siamo oh marco dimmi tutto dice Giovanni quella volta che siamo entrati come si dice siamo entrati ed eravamo in 16 persone mamma mia mi abbiamo perso da stupidoni perché eravamo lì a stupideggiare ti ricordi potevamo vincerla incredibile allora lord dovrebbe essere arrivata la giuli stasera quindi credo che stanno un po' facendoci le coccole facendoci le coccole non lo so penso io per Pier le coccoline ha detto che entrava la lord ha detto che entrava però si ma questa è la prelobby magari dalla campanile ma questi incendiari come li prendono ragazzi gli incendiari come li prendono come si fa a prendere i colpi incendiari raga ciao GiuGiu arrivando a un livello non mi ricordo ah un livello guarda che c'è GiuGiu Morris la grandissima GiuGiu pure io pure da me grande GiuGiu ah grandissima basta scherzo dai dai che si parte dai che si parte raga allora siamo tutti vicini recuperiamo le i soldi importantissimo i soldi che mi calmo o di non ho living ok living eh puntate per piacere che non me lo ricordo mai eh puntate punto dopo la voce inizia il ping uomo ok eccolo là living dai ok è bello lontano però eh l'anquelo viola eh per far ritornare certo sì living ok dai siamo arrivati tutti senza morire ragazzi se volete ho le corazze come è vero quella cosa peggio ma voi lo trattavi questa che io la do all'altra oh neanche un euro eh ma 4 mila ce l'ho oh grazie c'è un euro io te li ho pingati i soldi e qui eh sto venendo a prenderli chi è messo lì? eh il grandissimo piano un po' mi tenta di rubare quei soldi eh ma è per comprare l'impariamento devi schiacciare i triangoli ma ce la fai a prendere le mie no io te ne ho tutti i soldi avete 900 a testo eh io ho 900 di voi? eh sì dammi ai 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 vai ciao gioco gioco grandissimo buonasera amico mio oh che è morto qua no 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 vieni vieni ma dov'è? eh no è uno sopra c'è moris c'è moris ah attenzione ho visto uno che di qui da casa verde raga casa verde no no ma ha fatto questo è dentro è dentro no no raga no vabbè ho fatto il giro quello lì io sono morto no e dai guarda no vabbè settimi dai raga eh vabbè ma come è possibile che eravamo già settimi scusa ma non c'erano entro 60 persone si saranno già morti tutti ah incredibile velocissimo nemmeno il brutto infatti cioè Il caricamento che la partita Incredibile Succede anche questo Partita flash Ma nemmeno fare un uccisione No, no, niente proprio Abbiamo preso il cassone e basta Bellissimo Quindi rientra Lord Lord In teoria mi ha detto che Stasera c'era perché la Giulie arriva da sua mamma Ma non lo so, magari stanno mangiando Adesso lo sento Lord Stasettimana Iper mega stanco, poverino Ma Thor Non è una volta che entra e fa una partita Insieme con noi Thor è il lavoro, è il lavoro Lui lavora come panettiere Il lavoro è sempre di note Sto bene, sto bene Ma giochiamo a Thor Thor purtroppo Io vado dentro nelle sue live a vederlo Comunque ti escono le gocce dalle orecchie Ah io sono in un caricamento che non so Sì, anch'io sono in un caricamento Voi? Ciao Una parola casissima Morris anche tu sei in caricamento Sì Devi sempre fare abbandono Ne faccio io Devi fare abbandona Sì, lo devo fare Sì, ha fatto Morris adesso abbandona Vediamo se ci butta tutti fuori O almeno se ci fa entrare dentro Sì La carne mi ha fatto uscire Buttato fuori proprio Sì Connessione ai servizi online Vediamo Vediamo se mi carica che ho dentro qualcuno Sono da solo Bellissimo Ok Bellissimo Allora io Morris lo vedo No, siamo tutti Siamo tutti ragazzi Sì, sì Ma eh, cambiamo operatore dai Bellissimo Ma tu non hai preso però quello di Snoop Dogg È un altro quello lì, vero? Sì Ah ok Cacchio Snoop Dogg mi piace Ho preso l'altro operatore ora Motone, visto quello dell'ho messo in italiano Quello che hai preso tu che cos'è? Island Expedition? Sì, sì Ah ok, ok lo vedo qua Pacchetto pro spedizione sull'isola Dove è Snoop Dogg? Non lo vedo neanche più Ah eccolo qua È figo Eh sì È figo Eh ci vogliono 2400 Mi piace questa scopola Vediamo Eh bisogna comprare con i soldi Allora Morris e il tiburone Ah quella col coltello? Ci sta E ti specchia Bella Bella E questa è solo per quando compri il pacchetto figo, né? Il batter pass Ah ok Ma cosa fai? Ma io ho la bandiera italiana Ah 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 Voi sulla cosa hai Bitmoji Poi Vai su cerca Bitmoji Armeria Sì Epico Dai Metto questo almeno è epico Eh c'è problema C'è problema un po' tutto Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale eh Grandissimi Grandiii Oggi è venuto il grande azienda agricola A trovarmi Ok Oh l'ha trovata dai Oh che bello È questa skin ti piace Vediamo La skin quella del cotello? Ah no no aspetta il personaggio Con il casco celeste Bello 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 Si ci sta il casco celeste mo Da tutta rossa Bella bella Da tutta rossa il personaggio Ah sì Fico eh Bello Non va più In che senso? Sei mutante per te Ma ci prendono un G C'è una piccola di personaggio Non c'è I punti No è solo visivo Lo devo riavviare? G C Facciamo una cosa Esco mi ha invitato a voi No Eh Fai tu Pier Sì Dai Marco Fatevi vedere Una bella partita Allora gioco gioco Se ci fa giocare Questo benedetto gioco Facciamo una partita Stramitica È che stasera Abbiamo fatto tre partite In due ore Assurdo Assurdo Non si collegano eh No Allora vediamo se Un attimo che entro E vi inviti Sì bravo bravo Ti distruggi Gio No Categoricamente Gio deve mandare a Chris Allora Ti distruggi Categoricamente Eh ma lui lo dovete invitare voi Non ce l'ho Va bene Invitatevi Io ho già mandato Unito Sto unendo E poi Giovanni viene da noi Allora Marco si è unito Ok Allora adesso invitiamo subito Ci sei? Grande Aspettiamo che viene fuori Eccolo qua Perfetto Vai 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 Non perdiamo tempo Andiamo da Godzilla Non vedo l'ora che arriva l'undici ragazzi L'undici o il dodici Godzilla? L'undici 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 Bella lì Grande Godzilla Dai oh Sta dormendo così? No vedi La trova e ci caccia La trova e ci caccia Non va qua Fa sempre così Dobbiamo aspettare un po' Eh purtroppo Vedi la trova? Eh sì eh sì Poi però non ci fa Ah è andata è andata è andata è andata Oh è andata è andata è andata Bella lì Intanto io cambio cambio le marce Wow super Nero però Allora dai Proviamo ad andare a Chemical Eh Cambiamo Quella di prima non è stata una grande corsa Sinceramente Quindi Chemical ci sta Ciao ragazzi Oh lord Ciao lord Lord diciannove Buonasera Grande lord Buonasera a tutti Grande 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 moris Bravo bravo Buonasera a tutti Bravissimo Ciao lord La giuli la giuli Come sta lord Devo vedere un altro mio Buonasera 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 Da dietro Da dietro Sempre da dietro C'è qualcuno C'è qualcuno Sempre da dietro Grande lord Lo ce l'ho matto Giuli Oh Sembra giulio No ma è uscita la No ma è uscita la Questo qua è un altro mio Posso non cambiare giu Ciao amici Twitch e benvenuti ragazzi Andiamo Andiamo alla nave 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 ci sto Ciao giuli Grande giuli Morris Non ti mettere a suonare il clacson della nave Altrimenti vengono tutti lì Vi appunto Ciao linaus Grande Grande Morris Andiamo prima la nave Facciamo soldi Ciao piero e piccolo Morris Lord vi saluta E se siamo alla nave Siamo più sotto di control Nave allora C'è uno cecchino Ci hanno fatto a pezzo Lave nave Io sono alla nave ragazzi Cioè sono già arrivato alla nave Ciao grandissimi ragazzi Benvenuti benvenuti tutti alla live Amici nostri Oh che bella la chat Quando si movimenta Ragazzi ho preso un sacco di soldi Io ne ho 3600 Io ne ho 1600 Io ho 4000 ragazzi Dove sei dove sei dove sei Vai Marco dammi i soldi Ok arrivo Sono qui eh Aspetta che sto scendendo io Vai Sono buttati qua Dove? Qua 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 Dove sei Ok grande Morris Poi tutti Ciao Giulii Ciao Lina Linaus Oh che è 2008 La facciamo a prendere le munizioni Munizioni Eh mi dovete dare altri soldi per le munizioni Eh io non so più niente ragazzi Dobbiamo salire Saliamo Venita Ecco i soldi Ai soldi ci sono Non ti preoccupare venita Dai prendiamo le munizioni Aspetta che cerco altri soldi Ciao vicini Oh chi è esploso Chi ha fatto esplodere la bomba Dai non fare così Mi fa vedere un infarto Attenzione Ahia Non riesco a riconoscere da dove Ma no Ma da dove Eh da là Cosa? Da dove è che stanno sparando? Dalla nave forse raga No Eh? Oh A terra A terra A terra A terra Dove devi andare? Questo sei autocorrato Ma l'ho ucciso subito Grande Maurice Così si fa Domani lavoro Oh Giulii A terra un altro Bravissimo Bonito? Cioè manco l'ha toccato Copritemi Copritemi Ma fermo Fermo Oh sono dietro di voi Oh cazzo Vai l'ho ammazzato L'ho ammazzato Arrivo Ok Guardate la Marco No io non sono Sono l'elicottero Attenzione Scappa Ma dove sono? A terra A terra No 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 Dietro dietro No Caspita Chi è che è arrivato? L'elicottero? Chi è che mi ha ammazzato? Ah no Uno da dietro Dall'alto raga Pierpaolo ciao E la Giulia che ti saluta Ciao ciao Buonasera Ciao Vieni Corri Corri Venite tutti Venite tutti È morto È morto Dovete venire Correte Dai Correte Attento che arriva uno Se lo potete fare vai C'è uno da me? C'è uno eh Esistete Esistete Ok Marco C'è Caspita ragazzi No 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 Moris bello Ciao bello Grande Moris Dentro Moris Maurizio Grandissimo Maurizio Grande Morizio Ma c'è a terra? C'è? Morto o ammazzato Arrivo eh Ciao amici Bravissimo Amore grazie No 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 C'è un altro? A terra è morto un altro? Ma sono morto Tutti mi sa No 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 ragazzi Stanno arrivando Stanno arrivando amici Riuscite a curarmi Qualcuno Qualcuno Questa è la stessa mia Aiuto Buono Attenzione che di sopra dove c'è il cannone c'è uno con il cieco eh Dove andiamo a contro Siamo in una situazione critica Critica Critical Instrument Questa non lo muore Mitraglietta Vieni Noi stiamo bene giuli Grazie Abbassato e vittorato Allora ve lo voglio Ci hanno visti Sono spawnato Ragazzi però io Se vado magari un po' distante da qui Dite che faccio male Metto quadrata Non l'ho capito Sì Marco Bravissimo Marco ma che dice ad aiutare Arrivo Eh volevo prendere un po' più distanze per vedere se Che sta arrivando Ok Sono qui comunque Non so chi è ma io non so Nave Sta arrivando Ok uno l'ho ammazzato la nave Ma dove è un altro? Ciao amici di Twitch Io non ho armi Eccoli di là Eccoli Quelli fanno sul serio Oye 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 Arrivano E non so Visto si spravano Sì Da contro ok uno segato ma entriamo incontro entriamo ok entriamo no ma appena sono morto l'interrato se la fai curarmi grazie grazie l'ho ucciso l'ho ucciso è entrato dalla finestra e non l'ho atterrato ma si è atterrato però io poi l'ho ucciso perché stavo dentro grazie lo sparo c'è non ho armi stanno arrivando attenzione arrivano 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 no 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 la prigione mannaggia sul tetto sul tetto della prigione chi è lo specialista morris hai le barre arancioni allora allora mi fanno ripristinare le piastre più velocemente solo due piastre ti devi ripristinare io l'ho mazzati due ragazzi bravo bravo uno ne manca oh no dai dai tre l'ho mazzati marco tra un però c'è ancora qualcuno di noi io 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 bravo 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 come c'è Joan è qui io Joan uno è sotto eh è scappata scappata non mi riesco ad uccidere vieni Joan ma non so che come sai io ma guarda mamma ma è io sono io sono io no ma no quarti quanti ragazzi dai qualche fighissima abbandonato no allora giovane paduan vuoi entrare tu chi è che è la partita chi chi è comandante se tu ciao ciao giovanni buonanotte grazie di tutto e ci vediamo domani ok ciao bello ciao ciao mitico va bello dovete invitare voi sì allora siamo dentro giovane paduan vuoi venire ti sto invitando è cercato che non lo sentiamo nel party ha detto che non riesce a sentirci questo non lo so ciao giovanni grazie buonanotte è stata una bella serata è grandissimo grandissimo dovete invitare voi paduan aspetta paduan ci senti se sei ancora amico mio vediamo solo un secondino raga che vediamo se c'è c'è zuvituzzo online allora giovane paduan non mi risponde quindi probabilmente tu riesci a vederlo se è dentro in chat non mi risponde se no chiamiamo zuvituzzo se può che che è bello è tra l'altro piero l'altra sera è venuta zuvituzzo grandissimo no non c'è puoi invitare tu zuvituzzo dai dai invitano invitano dai un chiocciolo è venuto fuori da carla un chiocciolo ok ragazzi ok 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 vabbè secondo me è meglio che ci chiamo dici al massimo se entra poi usciamo dai tanto sei tu il capo fai partire tuo mitico piano perché se sta giocando magari dentro in partita è ora che finisce la partita viene fuori viene da noi sempre se magari non ha altra gente non lo so se dovrebbe andare a vederla su live a vedere se sta giocando con qualcuno eh infatti potresti fare così si adesso vado a vedere allora aspetta che vado a vedere che cosa è successo marco la volete ma la volete vincere una oh maurì tuo papà ci dice se ne vogliamo vincere una e c'ha ragione tuo papà dobbiamo vincere maurizio stai tranquillo bandami la foto di una pizza ciao giovanni di villa ne abbiamo vinto eh infatti due fighissime io oggi ne ho vinto e quattro ehm dai vinto e quattro però avevo trovato una squadra tostissima ti aspetta anch'io voglio vincere quattro ciao ragazzi buonanotte anch'io voglio vincere quattro erano tutte e tre napoletani non lo vinciamo si ah tutti italiani tutte e tre napoletani ma erano forti che figata guardatella 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 sono molto aperto Ciao amici di Twitch, grandissimi Ahahahah Ciao ciao Della serena Probiamo chemical Chemical Oh, Arbor Andiamo a Arbor, ma dov'è Arbor? Dove lo puoi puntare al piacere? Ma io direi di andare a Living Di nuovo a Living, ok Living Ed Quarters Ed Quarters Dai, puntatemelo please Chi è il capo? Ho fatto, ho fatto, ho fatto Ok 3, 2, 1 via Ed Quarters, ah cazzarola Ma sulla torre andiamo? Dove vuoi? Io vado sulla torre Ma dovete venire la mano La priorità è uccidere tutti i nemici All'attacco di me Ma dai Stai avuto da me con Rotten Tu sei praticamente Aspetta eh Che vi riguardo Con la fucile da cieco Se c'è qualcuno Oh è bravo quello che sta con noi Quello viola Chi è che è? Dove c'è uno Nooo Nooo Dai Ma vai a quel paese Dai Una terra e uno morto Allora Allora arrivo eh Ecco Ci sono Sono qui proprio dove ci siete voi eh Ma che cacchio è? Ma chi è? Non sono gli altri No Alta ti Tipo qui Oh no raga E io e il ragazzo di quello E siamo sopra sul tetto E ci ha seccato uno con il cecchino da sopra A tutte e due No a tutte e due Sono te Ah E che cavolini di bursella loro Perché sono me? C'è quella torre lì che è terribile raga Oh mio dio Cosa è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo Morris? Ho fatto qualcosa di bello Non hai resistito Ah ok grazie No C'è uno con l'arco qui davanti C'è fatto di entrare Ah vabbè vabbè Perfetto Dai sono morto C'è il tipo con l'arco ragazzi Incredibile Ma lanciato due Anche lancia granate Ma è morita E tutte e due a terra No da dietro Tutte e due a terra No Marco corri ma E io sto rientrando Aspetta 5 4 3 2 1 Rientro 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 raga Mi imbosco un attimo così vi faccio rientrare ok? Ok Ok Siete entrati? Oh grandissimo Ok Io vi vedo Morris è qui a 20 metri Ok Al tibolo non ci vedo Ragazzoli dopo 9 fiat Va bene Va bene dai Grandissimo lord Ci vediamo domani Dai riposatevi Così almeno domani Oh aiuto Ma perché devono sempre sparare a me? E grandissimo lord Dai ci vediamo domani Eh amico mio? Buonanotte Buonanotte 29 metri Da qua 29 metri 18 metri Stanno venendo Stanno venendo Caspita Sono qui Sono qui Io non li vedo eh C'è 7 metri Sono qui Hai visto? Dove sono? Dove sono? Dove sono? No no Stavo Ora se non ci muro questo No Qua qua Dai no vabbè No vabbè Caspita Caspiterina raga Questa è stata tosta eh Marco a dramma fu un' uccisione Vai bene Grande Chi è che lo deve fare il gioco ancora? Ah no io Perfetto E' così Ma sai Piero Una cosa più incredibile Cioè O li becco tutti Che mi beccano di schiena Oppure quando li sparo Non lo so O sarò Non siamo uniti Ma io vi seguo però Caspita Ma sei solo il primo a morire Perché? Eh vabbè succede Anche noi moriamo Sì ma sei solo il primo Eh Non va bene Non va bene Sempre il primo non va bene Oh è già ripartita l'altra partita E' incredibile questa cosa Sì Oh siamo zitti Perchè Però siamo in quartetto E siamo solo tre Come funziona la storia no? Vorrebbe entrare un altro Vorrebbe entrare un altro Vorrebbe entrare un altro Vorrebbe entrare un altro Adesso Dai aumentiamo la difficoltà Contro le squadre da qua qua Caspita Eh si Eh si Quello è vero Quello è vero eh C'è un soldato nemico Basta allenarsi Affronterete dei veri nemici Sì Proviamo ad andare Sì Sì Ma prima è entrato subito il tipo L'ho visto proprio che anche quando nella pre lobby c'era Io devo cambiare operatore Io devo cambiare operatore Secondo me è perchè gioco con lei Ritorno E non è vero ok ora vedo Beh andiamo andiamo Sulla torre Sulla torre Dove avete puntato? Sì Ma poi Gira via Ah ok Ah là in fondo Cacchio raga Ma c'è un mondo C'è un mondo C'è un mondo L'avete fatto C'è tantissima gente qui eh Io sto andando Sono dietro Pier Oh 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 Bravo Grandissimo Pier E questo? Sì Sì Eh eh Aspetta 89 Cazzo Cacchierò No 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 dai Questo è venuto giù con le sberle E con le sberle No non ci posso credere C'è tanto a grappola C'è andato le sberle C'è andato le sberle C'è andato tutte e due Mi ringrazierai tu Ok Grando Sì ma io vado su eh Perché Abbiamo solo pistole qua Se arrivano raga Quante pistole Aspettazione Arrivano 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 Noo E' befferto questo Non è possibile Una vetro e la luce Ma questa è stata velocissima raga eh Questa è stata velocissima Però Mi ho fatto Mi ho fatto troppo ridere ragazzi Un marco trano su uno Mi ho fatto troppo ridere perché Cacchierò forte Perché Perché non devo fare gioca ancora Sì sì No è ormai io sono uscito Beh Fai ripartire adesso che magari entra una Fai quartetti Sì 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 Va ancora entra un'altra Ma L'ha provata subito hai visto? però non è ancora partita si sta caricando con la bandiera del messico mexico che è entrato a quartoli a uno caso a caso si fammi vedere se zubituzzo sì 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 è il live sta giocando con un'altra persona aspetta che sto vedendo preparate l'attrezzatura sta arrivando un nemico attenzione in alto dov'è? bella per loro ok questo è un po' vicino questo è il punto no deve cambiare il gioco sentito vabbè rimango dentro un po nella sua live io sono finito a metà contro aspetta lo devi dire prima perché io non ci arrivo così tanto velocemente sta venendo da te però ci metto un po quindi adesso sto arrivando io è attenzione ce n'è uno sopra secondo piano mi sto sparando da fuori raga no 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 dai attenzione che arriva uno da dietro eh ma mi l'hai detto troppo tardi no dai mamma questo qua sta di aspettarmi è stato lì è venito però di bravo no 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 ma perché mi ammazzano quando arrivo attento moris è arriva da te grandissimo moris ho visto che l'hai avanzato no dai quello la ha sparato da sopra ma si dai non fa niente moris che grandissimo si si sono camper la paura raga eh mamma mia dietro il muro però allora il ti ha ammazzato? ma non c'è ma è possibile eh eh sta partita è un po' così però sono ritornato io eh io mi sposto ragazzi perché qua veramente mi fanno malissimo vieni qui vieni qui oh dai vabbè ma qui c'è qui c'è troppa gente eh amici eh troppa gente qui eh eeeh vabbè dai centosessantaquattro spalle ultimi venticinque io adesso arrivo dove siete voi eh attenzione a casa qua che stanno già arrivando raga no dai vabbè ma che paschio vabbè? eh non so è uno che mi ha sparato da fuori non mi ha fatto neanche scendere beh ne arrivano due ne arrivano due un'altra terra un'altra terra un'altra è morta per spalenza grande dai dai muori bravo attento ne arrivo uno attento attento arriva arriva c'era 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 due dietro però sto rispondendo eh si 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 comunque bravissimo quello qua eh quello che è con noi eh 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 ogni tanto qualcuno bravo ciao deciso grandissimo ah 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 dov'è dov'è sta gente venga partitozza attenzione arrivo da dietro oh madonna ma come fanno a ammazzarmi così ha deciso incredibile va 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 guardo guardo è morto tutto bene tutto bene deciso ci siamo stiamo sparando ecco ovviamente sparano a meno a una fermo ok lui è qui dentro chi ha segato chi no c'è uno col cieco va bene è stata bella è stata bella dai comunque è stata bella ma questo che col c'è come guarda chi è grande grande vuole si gioca di nuovo e non sono io che lo dove fa chi lo deve fare il grandissimo pier bella bella morita e dai dai scusami ho fatto poco io gli ho fatto 0 io a uno solo gli ho fatto la fatality e l'ha visto pure morris che fa la fatality vero vuoi che rimanga certo deciso grandissimo aspetta così scherzo vuoi che rimanga certo certo deciso grandissimo ma tutto bene tutto bene speriamo che non ci fa stare di nuovo eh mamma mia nemmeno le prime tre posizioni dai la mezzo dentro un altro però eh ti piace warzone deciso domani c'è gran turismo eh oh grande deciso domani gran turismo domani pomeriggio eh gran turismo ti aspetto eh ma questa è la pre lobby vero raga allora deciso non è che sto facendo delle gran partite stasera eh ti dico proprio la verità quindi rimani per la simpatia perché più che altro per il gioco devi seguire morris il mitico pier perché io anche se qualcuno l'ammazzo eh ti devo dire la verità esagerato grande grazie grandissimo vabbè dai non arriviamo a tanto non arriviamo a tanto oh madonna oh non ci fosse una volta che riesco a ammazzarli davvero mi traspare tre proiettili alla volta ma è quello del pass si oh no no tranquillo io sai che lo faccio per divertimento e perché perché è bello giocare con gli amici ma warzone non sono mai stato una grandissima cima ti dico la verità invece in colo tutti si è uscito tipo andiamo bene ma questa per le lobby non finisce mai si infatti se non trova la gente devo riuscire a capire raga come si fa a fare il merchandising da stream elements sapete che ci sono tutte le varie robe che le fanno già direttamente stream elements cappelli magliette fanno tutto loro fanno ma neanche da pre lobby eh se devo dirla è più come lo gran turismo si si beh a me piace tantissimo gran turismo però ti dico la verità bisogna anche cambiare gioco perché sennò poi dopo stanca cioè sinceramente diciamo che warzone comunque è bello ed è commerciale lo seguono quanti per te ma poi anche divertente perché ci si fa insomma delle partitelle lo stanno streamando infatti piuttosto che vedono che lo compro di sicuro esatto esatto è vero è vero comunque ragazzi siamo di nuovo in 3 i server ci vogliono molto bene dove andiamo però raga ma posto dai arbor morris arbor va bene ok grande perché si abbia 3 ma perché abbandona eh però ci l'aveva messo dentro uno il server è lui che ha abbandonato mi sa ok si l'ho visto l'ho visto andiamo ma forse io esco troppo prima dall'elicottero vero? eh vedo poi che è andata a fuoco oh ragazzi è già uno eh grandissimi grandissimi raga forza dai grande deciso hai ragione hai ragione dai che facciamo un partitone dov'è 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 sono acceso ok ora arrivano due due ne arrivano raga c'hanno anche sono più di due è la squadra di qua ok grandissimo c'era un altro che arriva eh c'era un altro da dietro no no dal davanti no se siamo tre contro quattro è normale eh sì no che peccato non riesco a fare una vittoria ho fatto il gioco ancora si si ma si ma tre contro quattro eh tre contro quattro muore sia difficile cioè sinceramente comunque hai fatto già tre uccisioni eh eh infatti cioè non male direi eh noi ti vogliamo aiutare però purtroppo siamo comunque in inferiorità poi io faccio quello che riesco eh eh grande moris anche io se tu ce ne hai due avanti e due dietro cosa fai come fai eh sì non ce la fai eh io ero dentro con te eh hai visto non è che ero in giro eh però cacchio ne arriva uno eh lo altro uno uno non è che c'era uno alla finestra uno alla porta eh c'è dai comunque c'è da dire la verità si sono mossi bene questi qua sì 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 eh perché erano sparpagliati non riuscivi a fare esatto due di qui due di là ci hanno massacrato comunque siamo in quattro speriamo che rimanga speriamo che non ha succeduto di nuovo con l'unico minaccia rimossa ho giocato a fortnite sì abbiamo giocato con moris a fortnite sì 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 beh moris scegli tu che dobbiamo andare andiamo a control vi prego prima mi sono fatto 50 kg andiamo a control dai andiamo a control mettete il ping e io ti seguo vi seguo dai io almeno sì sì comunque giochiamo deciso a fortnite sarebbe il terzo gioco che porto sul canale andiamo a control dai al quarto ancora non ci ho pensato control Marco oi dimmi al quarto gioco ancora non ci ho pensato no no assolutamente questo è forte eh possiamo portare Vanguard eh adesso che ce l'hai tu ce l'hai si ce l'ho chi è italiano lo possiamo lo portiamo si si perché abbiamo il party della play eh c'è non ci lo sentiamo noi si si non andiamo nell'altro party perché è un disastro control eh sul Vanguard possiamo frella molti giocatori quindi posso giocare più bene eh infatti ok dai grazie mille deciso va bene va bene dai domani pomeriggio domani pomeriggio ti aspetto eh ti aspetto amico mio se puoi vieni se no alla sera tanto sai che io streamo sia al pomeriggio che alla sera ok ti aspetto ti aspetto grazie per essere passato eh io ho preso una contro ok ci sarò grande grande domani compriamo un sacco di macchine comunque quindi giornata fighissima quanti crediti hai io ho 3200 io ho zero oh cacchio scusa ciao deciso buonanotte saluti 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 su Gran Turismo ah di Gran Turismo 11 milioni eh 10 milioni si ma ne ho spesi 15 ieri l'altra sera questo è forte grazie è italiano si è forte dici che è forte lui proprio è bravo finchia 12.000 perché non si può parlare ogni tanto qualcuno si potrebbe anche invitare dentro io lo sto guardando qui non arriva nessuno possiamo andare ma servirebbero solo le punizioni eh le ha presa io non le ha presa no non le ha presa no non lo so dai rimaniamo tutti insieme dai rimaniamo tutti insieme si no vai saliamo al tetto eh si sto andando su mi sembra di aver visto qualcuno mi sembra di aver visto qualcuno alla prossima destinazione gas in arrivo gas in arrivo la cosa non mi piace tanto qui sono da presa perché è morto ragazzi eh no l'ho tirato su io ah ok che è successo sarà caduto dici che non c'è qua nessuno no non è caduto no hai sentito non è tipo uno spazio ma cosa è vero certo però se vedi bene no per esempio io non mi faccio male no ah che fortuna questo che cadi senza fare niente no senza pericare il paracaduto oh 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 stanno sparando forse perché mi voleva dire da andare beh andiamo lui sta dicendo di andare allora ma siete di nuovo sul tetto no siamo a tre quarti io lo re la sei fraga andiamo al buco che porta sotto prison da sotto prison potremmo salire andiamo nel buco dai nel bunker come lo chiamate voi qui 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 qua sotto ah qui questo ha portato sotto la prigione vieni moris vieni con noi 1 a 19 metri 1 a 19 metri c'è 1 a 19 metri ma io non sto usando il silenzio di tomba attenzione potremmo salire alla prigione la prigione la prigione andiamo sopra io sono sopra 40 metri 40 metri 40 metri di qua oh attenzione dietro dietro ho visto un puntino rosso benvenuto benvenuto si si sto arrivando dove è Marco arrivo sono con l'altro ragazzo qui con il marietto posizione marcata vieni 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 dove vieni sopra siamo sopra noi stiamo giù ah no scusa cosa devo fare giù parco vieni ok stiamo seguendo il marietto aspetta vieni ok cosa c'è qui saliamo sopra venita appena dietro la porta è sicuro oh andiamo gas andiamo su dal marietto caspita speriamo di non morire adesso no come si fa a salire su nemico in arrivo nell'area nemico in arrivo anche ok è qui attenzione dove sei dove sei ti posso tirar su è morto oh c'è uno c'è uno c'è uno dentro la stanza nell'angolino lo tarrete grande che roba ma non ci possiamo più ria di mare si no il marietto è andato ma dai ma dai ma a me stava mirando dobbiamo spostarci eh ho terrato ho terrato bisogno spostarci c'è il coso andiamo via non ne ho più una adesso te le do ma andiamo oh attenzione ci stanno sparando prendete la munizione ok e capisco non ho visto quello di morris non è via no 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 che cattivo era proprio di aspettarmi guardalo va 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 chi è che c'è morris? il marietto c'è anche sei al limite della nebbia oh se c'era quello lì l'avete visto? grandi no 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 lì sto stupido ma dai che stupido quello che ha amassato a te ha amassato anche a me ma era nascosto nei barivi lì no 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 allora morris non rientri più mi sa nè c'è un teschio eh ma anche Marco Drums al teschio grande Pier e Marietto eh ma c'è il colpo bravo grandissimo sto Marietto qua bisognerebbe mandargli l'amicizia eh sinceramente stagli con me ti butto no ma dai scusami c'era uno stupidone davanti da che morte ridicola che ho fatto 3 a 40 metri 10 squadre ci hanno inizio per so sono in 10 persone 4 squadre morris dietro ce l'hai eh sul tetto sul tetto sul tetto non l'ho ucciso quello sul tetto sul tetto lo vedo io sì sì è vero è sul tetto morris della k20 aspetta c'è gente però ehm ce la sai ah Marietto ahi Marietto anche lui è l'ultima squadra è buona la terra questo era morto dai bella bella terzi ora caspita sto Marietto qua però volevo mandargli la richiesta come si fa andiamo a dare uno e andare nella ultima è l'ultima lotto comunque mica ha fatto tanto eh però ha giocato bene ci ha salvato due kill le hanno fatte no però che ha rischierato eh infatti eh ha fatto da copertura dai dai ha giocato bene eh non contano solo fare le kill se sei bravo anche con una kill vinci eh sì poi è una cosa di squadra però non so come si fa a invitare eh in Marietto in pratica dobbiamo andare nell'ultima lotto e lo trovi ma da fuori adesso si è giocato che lo trovi vabbè non lo possiamo vedere dopo con giocatori incontrati credo di sì no sì nella ultima lobby lì possiamo mandare anche la richiesta d'amicizia eh infatti se sinceramente oddio siamo già in tanti eh perché poi quando arriva amoroso quando arriva eh zuvitus non è che però sai trovare anche qualcuno così non dispiace eh madonna quanti siamo troppi siamo ma Royce eh troppi siamo troppi però vabbè non fa niente ho giocato bene mi è piaciuto era italiano però non ci sentiva perché avevamo il party della play sì ma guarda abbiamo provato lui ci sentiva ma noi non sentivamo ah lui sente noi però perché guarda abbiamo provato pierre il party è andata bene sì sì dai 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 abbiamo provato a fare col party di gioco è un disastro sinceramente un disastro senti metà delle cose è proprio un casino dai grande morris il quarto gioco portiamo vanguard guarda eh ci sta ci sta di brutto che poi tra l'altro avete visto che faranno modern warfare 2 warfare warfare non è male non è male quello quello potremmo prenderlo tutti a day one lo portiamo sul canale ci giochiamo eh raga tanto sarà settembre ottobre novembre credo c'è tempo dove andiamo di nuovo si si ma c'è dentro un altro non ci ho fatto caso si si ok dai allora controla aspetta dov'è controla ok l'ho visto sul tetto come non non dirmi tutti su control c'avevo tutti i soldi raga ma prima non erano su control scusa dai con la pistolina sto deficiente sto sto balordo con la pistolina mi ha fatto vedi io sto tu io sto ma non è prelobby vero no che cacchio no ora è gioco eh speravo che la prelobby ma ci vedi ok grande moris oh 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 aiuto attenzione moris non lo curarmi eh ammazzano gli altri eh fatti attento attento dai quello lì è quello che mi ha ammazzato a me eh ma ti potrei aiuto a curare no no non ce l'ho alla procura eh dai questo è uno di vita dai ma questo qua siamo rientrati sì sì no quello sì ma l'altro johnny quello lì è sempre morto ma dobbiamo andare ancora qui che c'è un sacco di gente sì sì venite venite come ho aperto la porta ci ne erano quattro scendiamo vediamo vediamo sì no è pieno è pieno uno l'ho ammazzato cosa hai fatto Marco grazie grazie nemico freddato oh e mori un altro bello e mori quel soldi ci stanno facendo arrabbiare moris arriva d'altro dove è? di qua ne arrivano due e vabbè dai sì arrivano tutti qua attento ce ne sono due moris è pieno si no contro è una cosa indescrivibile però dovete venire perché ci sono io eh 5 4 3 1 arrivo è tanto ci sono ci sono ci sono pure tu ora attenzione setto è pieno setto è pieno ovviamente è solito con te no dai no ma perché voglio vedermelo come muoce di sotto sì va 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 ovviamente da un'ottima di qui c'è grandissimi mega partitosa guardate Marco vediamo sprendi ammazzati però è un caso 9 8 7 6 5 no che peccato dai no vabbè ci sta la credevo più più combattiva questa qua perché stavo rientrando come si chiamava i marietto no i marietto i marietto ora vado nella penultima eh vai a vedere vai a vedere magari che ne so non inviti entra nientro subituzzo cambia gioco quindi non c'è gli altri non c'è nessuno si l'ho trovato grande gli ho mandato la richiesta mi invita nel papà bravo 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 ok aspettiamo un attimo ma si dai giusto 5 minuti per non so moris tu che ora devi andare a letto se entra entra subito infatti vede l'invito e dice ah questi qua vogliono giocare con me esco entro se non se non entra non interessa domanda cosa è la richiesta d'amicizia che ripeto nel quattro bravo non c'è holly stasera si roby no in realtà no c'è c'è il gatto però lo vedi qua il gatto lo vedi qua mina qui c'è mina ah tra l'altro non ho neanche messo il cartello del incredibile ragazzi stasera è una giornata stanca no olly è a letto già con Carla sono già andati a letto perché loro vanno a letto presto e poi tra l'altro credo che arriviamo 11 e mezza quarto e mezzanotte ragazzi voi cosa fate come orario no io ci sto io ci sto tu moris a che ora devi andare ma io posso stare vabbè fammi riprovare l'ultima volta sì altrimenti inizia di marietta di marietta sì no al massimo se poi entra dopo mi ho mandato di nuovo vabbè richiesta amicizia e sospeso oh non l'hai mai visto il gatto la mina la vedi la vedi lì piccolina è qui è qui sopra sono i cuscini ma secondo me possiamo avviare dai sì avviarla tanto poi se entra lo sentiamo anche se mi accetta l'amicizia poi lo posso invitare sì perché ha giocato bene davvero quando la gente gioca bene è un piacere vero? sì ci sta ci sta ci sta sì sì bella grande robito ma tu hai equipaggi anche il per eh scusano ho capito i punti esperienze agli equipaggi i punti esperienze allora se schiacci l'analogico sinistro sì allora aspetta aspetta sono uscito sono uscito mi ha invitato i marietta ah va bene dai e poi e invita bravo allora invita marco e invita marco fai abbandona col party marco aspetta cosa come si fa perché poi ok no no cosa è successo ma cosa è abbandonato sempre a parte no mi inviti sì sì mi dice inaccessibile ma chi a marietto no io sono con marietto ah no adesso sto caricando aspetta un secondo eh stiamo caricando aspetta un attimo Morris perché sicuramente gli dirà che non possiamo almeno io sto caricando recupero profilo online allora marco invitato ah ti ha fatto invita marco invitato marietto invitato ok accettato l'amicizia grande marietto siamo in quattro ora senti tu ok ok però non credo che ci sente vero sì siamo tutti e quattro con i marietto solo che non ci sente no ma non ci sente abbiamo il partito la play eh oppure andiamo un attimo in giotto gioco solo per sì 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 dai poi andiamo giotto gioco abbandoniamo il partito la play ciao gioco basta uscire sì no ho sbagliato pronti ah ok ok ciao marietto ciao 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 grande marco trans games ciao ciao mario 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 grande mario ti chiami come mio papà come si chiamava mio papà il grande mario grande grande eh abbiamo visto che hai giocato benissimo abbiamo detto allora dai che che lo invitiamo il grandissimo mario mario ti chiami su switch marco drums games come come il mio vedi il mio il mio il mio tag qui marco drums games madonna l'audio di gioco fa paura ragazzi però eh mi sentite? io non sento morris e il tiburon vero che non si sente? raga raga ci siete? allora raga qualcuno sente? ciao raga mi sentite? mi sentite? raga? marietto? ci sono ci sono non sentiamo io non sento morris e il tiburon tu lo senti? no no ma tu potresti per dire venire nel party della play che ci sentiamo meglio? vedi che vedi Roby che va e viene l'audio del gioco incredibile l'audio del gioco ragazzi eccomi ehi no io sto giocando tramite xbox ah ah ok ok no no xbox xbox non computer no perché stavo vedendo ah sì è vero c'è un il monitor il monitor xbox ok perfetto ma è un bonus back and pass ma non sento tu li senti il tiburone e e morris? no ne? ciao amici di twitch marco sarai mutato no 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 ciao federico ciao grandissimo no 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 io no sento il mitico marietto però non sento ah li ho mutati io loro dici? si fa vedere aspetta ma è possibile che lo mutati il vendi in chat ah sì è vero allora siamo direttamente oh ti sento ti sento raga ah ma ancora ci senti ok no ma avevo mutato il grandissimo federico mi fa oh va che l'hai mutati tu grande grande marietto comunque mi chiamo marco drums games su twitch se ti va di seguirmi sei un grande grazie grandissimo 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 marietto abbiamo già detto abbiamo già detto che siamo in live oh che figata che figata e non vi sentivo raga infatti ero qui a dire adesso cosa facciamo come facciamo col party bella lì sì è 17 di 40 la lobby ora quando abbandoniamo rimanciamo i server così vanno vanno malissimo stasera infatti aspetta si sente l'audio quando fanno queste cose no in pratica mario stavamo dicendo prima no è bravo sai giocare ora proviamo a invitarlo se vuole venire ti pensi con il nonno stavo facendo una partita stavo anche giocando bene per un'altra che ha giocato bene no infatti e poi ho visto l'invito subito grande sai cosa ci hai colpito ci hai colpito che ci hai rianimato di solito la gente non rianima mai eh no in gioco di squadra cazzo no no bravo meno quello eh sì magari fosse così magari fosse così che poi è difficile anche trovare l'italiano in chat comunque sì infatti sì infatti infatti no ma infatti abbiamo visto il nome e ho detto no no questo qua questo qua è italiano adesso vediamo se gioca bene grande non è che non sono bravissimo vabbè guarda abbiamo visto che hai giocato bene infatti hai giocato meglio di me quindi sei più bravo di Marco Drums Games ecco adesso va via l'audio ragazzi nella chat nel tweet nel twitch e l'audio ritorna dopo un po' ecco adesso è ritornato l'audio ragazzi purtroppo l'audio di gioco è così eh raga che poi tra l'altro non sta neanche funzionando bene il remoto di twitch sinceramente io la prima cosa che ho detto vedi non fa tante kill però fa il gioco di squadra sì sì è della cosa che serve di più fare il gioco di squadra oh ma ha fatto fuori Snoop Dogg mi ha fatto fuori Snoop Dogg cavolini di Bruxelles ciao amici ciao amici di twitch grandissimi mega live vozza stasera warzone mitico Morris il mitico Pierpaolo eh grandissimo il tiburon e il grandissimo Marietto è entrato con noi Marietto grande grande grandissimo grandissimo allora vediamo il Marco è l'unico inimitabile con il draghetto il draghetto e gli occhiali da sole dai Morris dove andiamo dove andiamo ragazzi living contro il primo è stato un massacro raga living comunque Mario anch'io ho la serie 6 però vabbè non sento male sento basso basso aspetta che alzo un po' faccio questo e stacco ah fai una e stacchi ok perfetto si se la vinciamo lo facciamo bene se no no se no vai avanti a giocare finché noi vinciamo una bravo 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 mi fregate le armi eh oi cacchio che faccio no ma io non ve l'ho proprio fregato ma cosa che spavento io ho la pistolina ragazzi meglio di questo allora il soldi non ne abbiamo no io zero proprio ma io no io dobbiamo provare ad andare nella casa a fianco io sono già nella casa a fianco no ma ce l'abbiamo ok tieni vai datemi soldi io non so una lira aspetta che prendo questa cazzo non c'è non c'è non facciamo il lotto qui c'è eccolo qua soldi chi lo fa qua c'è soldi eh c'è un millino attenzione raga ho visto uno lo facciamo fare il filo dai andiamo la coppia andiamo la coppia andiamo la coppia aia aia ci andiamo a pushare contro e andiamo a pushare andiamo a uccidere qualcuno anche che se moriamo non c'è niente eh sì ok oh morris stasera morris vuole tutto vuole tutto per lui oh oh cosa è sto bordello ho trovato 2000 euro sì io eh io mi ho eliminato bello aspetta che andiamo c'è un altro amico ho visto uno stanno arrivando raga attenzione voi che siete dentro eh dai dai rimaniamo uniti dai che ce la possiamo fare 13 metri sono qui 13 metri sono qui 13 metri è sotto l'ultimo piano verso sotto ah è l'ultimo sotto no sopra piano terra piano terra beh adesso sai che non sa come le scale è qui eh 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 è qui raga li ho passicato io l'ho secato io però venite ragazzi grande sti busto attento dietro dietro attento eh c'è uno c'è uno dietro ce ne sono due raga attenzioni attenzioni ho fatti rientrare raga attenzione che ansia raga ok sono rientrato raga sto ritornando da voi perché sennò andato di ruvalo d'ao d'ao c'è un soldato nemico ma io ci provo a fare il bug dell'invenibilità arrivano ma vi hai detto che non funzionava più uh dove oh cecchino 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 da dove ah si l'ho visto l'ho visto caspita non lo vedo non lo vedo vai saliamo dopo è sulla casa davanti questa qui ve l'ho pingato è lì eh accattissimo da so come mai si è morto ma da dove la sinistra la sinistra ma non li vedo ah l'ho avviso marco oh aspetta ma come mai siete ok perfetto 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 però faccio il giro senza farmi sentire ce n'è uno qui ce n'è uno qui più di uno uno a terra ucciso grande ce n'erano due però mi sembra di aver visto no uno l'ho ucciso l'altro è scappato allora l'altro non lo vedo munizioni scasse ce n'è uno io dove sei? no no aiuto munizio terra ci so se volete una piastra ok ho ucciso ok raga vedete marietto vuoi la piastra? una ce ne aveva mi serviva chi vuole la piastra? ce ne sono otto qui ce ne sono tante vuoi che l'ho buttata? qui c'è tanto l'ho buttata qui ragazze qua ce ne sono tante ah ok voi siete già quanti non mi piace c'è un cerchino sul tetto sul tetto si ma era finito cacchia è ancora sul tetto attenzione della castra in mezzo ciao bc di twitch benvenuti ragazzi no andiamo io vedo un simbolino entriamo a fratta a presa entriamo al buco e andiamo a presa buco? dove è il buco? qui 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 vieni ah è dietro il buco ah ok l'ho visto no bellissimo cassa di munizioni è top è top attenzione in alto dico mamma mia 36 metri non c'è i colpi che non mi servo quali? tieno aspettate fate uscire me 22 metri eccolo eccolo grandi raga tieno attenzione dietro c'è solo dietro che lo facciamo? rispettiamo 13 metri 13 metri eh di fianco c'è uno qui dici? a un tetto comunque pieno eh 10 metri vabbè si facciamo qua prendo la self avvicinando 13 metri io sto entrando eh nessuno ha una place a noi di morte non sono più disponibile fatti valere no attenzione andiamo nella safe andiamo nella safe sempre fuori 13 metri eh ma andiamo andiamo però c'è uno qua fuori eh vediamo 13 metri di qua è una lontana 6 metri qui 6 metri saranno sopra allora sopra 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 è atterrato è morto? si è morto ok grande venite venite con me attenzione ragazzi stanno sparando sempre da sopra da sopra c'è uno lì Morris dietro di te è uno uno che saltella sopra attenzione ho visto Mario che va su è sopra e porco di ha segato sei rianimato ma come cazzo fai a presto ma come cazzo fatti attenzione la safe raga ti posso provare si lo li vedo ma perché io mi hanno fatto quei fai la caluzione di merda vai Marco sei rimasto da no non dite questo ragazzi Marco no non ho i soldi per curare Marco sei uno contro cinque se te li riesci a fare tutti dentro se li riesco a fare tutti questa casa dietro di tanti è tu rimani rimani nascosto rimani nascosto e poi non so provare ora devo venire da te non tu no cacchio dai raga ma guarda che stupido ma porca cosa sia oh raga dai bella secondo me buona cosa cazzo cazzo è la miglior partita che abbiamo fatto stasera tu Morris devi andare adesso o puoi farne ancora un'altra sto audio che va via quando finisce la partita Morris tu puoi farne un'altra o vai via adesso Marco hai visto che è bravo Mario si bravo 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 Mario grazie grazie tu Morris devi andare o puoi farti l'ultima hai capito sta a fare gioco di squadra ma è quello lo scopo di sto gioco faccio alcuni squadri eh no perché certi quando li trovi a casa se ne vanno per fatti loro eh sì no lo so lo so capitano tu magari vuoi andare a control no se mi vanno dall'altra parte quello è poco ma sicuro di solito capitano anche a me questi qua non me ne parlare poi quando trovi gli stranieri ciao soprattutto i francesi guarda un francese non l'ho mai trovato io beh che sono francesi o a bar dimmi dimmi Morris Marco ci siete ah ok ok chiudi Morris va bene dai buona serata grazie Morris ci vediamo domani ciao Morris ciao ciao Morris quindi siamo in ciao a tutti ciao 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 ti aspetto domani se ci sono in live va bene ciao dai ti mando la gente in live grandissimo Morris ciao domani di nuovo in live sì io Marco sì di nuovo in live sì sì sempre Morris Marco tutti in live tutti in live siamo ragazzi new live 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 sì ma domani con Gran Turismo Pier ok ok qui il caricamento non finisce qui mi sa che sei inchiodata aspetta un po' no no ci metti un po' dici madonna ma è possibile che non mettono posto questo server mamma mia che cosa fino a quando non trova la partita non va rimane così eh sì infatti si rimane qui come gli scemi aspettare Marco non c'è nessun altro in live che vuole fare una partita allora il problema sai qual è Pier è che non ho capito perché da martedì mercoledì sai che c'è stato un problema su tutta la rete team cioè non si riusciva a giocare un bordello ecco da quel giorno lì e che io sono sky wifi quindi non c'entro niente però non mi si carica più tutta la schermata di twitch sul computer e quindi io non riesco a vedere chi c'è dentro e non lo so non lo so ho fatto anche il refresh ho resettato il pc ho fatto tutto quello che c'era scritto nelle guide e tutto ma non sì 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 e quindi non riesco a vedere chi c'è dentro io al massimo posso dire ragazzi se nella live qualcuno di voi vuole giocare con noi ci facciamo ancora un paio, due, tre partitelle eh dai chiedi, chiedi in live vediamo se sì c'è la mitica lobby adesso vediamo eh non riesco a vedere proprio chi c'è dentro sento malissimo vi sento sì ma parte sta partita no chi è che ha fatto chi è il capo della lobby prova a uscire con io ah non ce la fai a uscire non ti fa uscire eh non mi fa uscire sto bloccato nel caricamento nessuno di voi riesce a uscire aspetta no no niente zero nient'io allora facciamo così ora chiudo l'applicazione riavvio e l'invito dai ok così no no voglio anche rimanere così ti arriva l'invito e accette sì funziona funziona ma a parte che lui è Xbox però dovrebbe funzionare la stessa roba sì sì funziona Robby another wire Bragani tv commander darkness marietto ah grande Robby grandissima Roberto allora ragazzi vediamo chi c'è vediamo chi c'è la mitica Roberto mi ha scritto tutti quelli che sono dentro another tv viever aservic stop grandissimo ragazzi iscrivetevi al canale se vi piace grandissimi commander dark round the bunny it's ifry lurks marietto maidson e Robby oh grazie grazie grandissimi ragazzi dai che ci facciamo ancora due tre partitelle e poi ce ne andiamo tutti a nannina nannozza che per oggi la giornata è stata è stata veramente tosta eh è stata veramente io intanto mi pettino tra l'altro ragazzi non ho neanche messo il cartello eh qui mi sa che si è inchiodato tutto oh ok adesso si che si ragiona adesso si che si ragiona ok eccolo qua ciao amici twitch grandissimi mi raccomando amici iscrivetevi al canale stasera mega partitozza con moris poi il grandissimo pierre paolo e er del servato anche il grandissimo allora io dovrei ovunque sarà proprio una questione eccolo qua si 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 io devo invitare eh il marietto com'è che lo trovo scusami lo ho invitato ai marietti ok no ma volevo anche metterlo tra gli amici io richiesta amico giusto si fa ok richiesta amicizia inviata perfetto adesso dovrebbe entrare si a volte si insiore avrà riavato aspettiamo un po' si si perché poi lui su xbox eh quindi magari non è che arriva proprio si si aspettiamo un po' ecco adesso mi ha fatto il refresh tanto per farti capire ho dovuto chiudere tutto il pc il browser riaprire riaprire twitch tv e mi ha fatto vedere che si sono iscritti tre stasera bella bella lì ragazzi grande roby roberta grandissima mi ha scritto tutto grazie mario guarda che ho messo il mega il mega logo l'hai visto nella live che ho messo il mega logo a fare i quartetti abbiamo trovato te a fare i quartetti abbiamo trovato te ah beh quello sia ok no mario ti stavo dicendo nella live guarda che ho messo il mega logo grande roberta eh sharder non c'è no no sharder dorme ah ok e tanti oggi è venerdì quindi sai anche lord e la giuli sono distrutti cioè sinceramente ti dico la verità Pierpaolo anche oggi ho dovuto scaricare due camion non è che sono proprio il massimo della quando hanno fatto questo aggiornamento della stagione 3 non va bene niente no niente proprio è un classico mettono troppe cose i server sono sempre quelli certo io sono con Vodafone e fino a una settimana fa non mi dava problemi ma ora comincia è un aggiornamento della nuova stagione è schifo come sempre beh adesso che in teoria Microsoft ha comprato che non è ancora definitivo perché vabbè gli azionisti hanno detto sì che ha comprato Activision speriamo che i server vengano potenziati speriamo almeno quello giusto raga Marco con questo batte il passo tu non immagini quante armi leggendarie mi sta sbloccata sì caspita io facevo sempre battle pass però adesso non sto mai giocando ora ho fatto il battle pass della testa della terza stagione ne ha sbloccato un sacco di skin ma le armi leggendarie che mi sta dando sono belle si si figata dalla passata stagione faceva schifo bravo no questa qui no questo ho fatto il pass di 10 euro veramente mi sta dando il panico si può dire eh si no io riuscivo sempre io l'ho preso una volta sola poi dopo sempre quello che mi davano sono sempre preso bravo ti stavo dicendo la stessa cosa Mario uguale li compri il primo poi tutti gli altri te li fai gratis si si un po' di soldi video ho buttato di su però no eh vabbè a con le skin anche questo sarà italiano ciao ragazzi buonasera buonasera Nico ciao ciao ragazzo hai visto di nuovo tutti italiani bella lì playstation però Nico grande Nico playstation sono unico perla con l'Xbox no vabbè Xbox è tanta roba Xbox è tanta roba vediamo siamo tutti sì siamo tutti siamo tutti dai Nico fai bella figura che sei in live no spero siamo in live fai bella figura fammi fare bella figura dai grandissimo Nico che io io cerco di sopravvivere il Marco Drums Games del turno di turno grande Pier grande il tiburon mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e fate anche l'abbonamento è grandissimo Pier sai che adesso ho scoperto che il merchandising lo fa addirittura stream element è vero eh sì non devi fare niente loro fanno tutto quando la gente ordina la maglietta o la tazza o il cappello quello che è loro spediscono fanno tutto loro e si prendono la percentuale chiaramente perché è ovvio mica lo fanno gratis adesso devo vedere come si fa eh caspita le magliette la tazza le mutande i tanga il barco drums games è buono costumi da bagno incredibili ho la lote non si riempi ma si è caduto io sono caduto stavo visto proprio malissimo vabbè non ci siamo 34 su 40 strano un attimino parte un attimino parte come ti chiami timbolo io pierre paolo no ma su cosa su twitch no su twitch marco drums games siamo in live se vuoi assist marco drums games iscriviti al canale e ti ringrazio tantissimo e un sacco di pubblicità marco marco drums marco batteria tutto attaccato sì marco marco batteria grazie ragazzi grande grande nico bisogna che qualcuno gli mandi l'invito nico così poi dopo quando siamo in live qualche altra partitella ce la facciamo ragazzi il cechino è la prima che mi sta dando partito sta il cechino nella torretta di lei sì sì sempre la vai no fammi vedere che voglio ridere un po dov'è che sei ho sentito un elicottero schiantarti eri tu questa partita ah sta partendo però non vi sento più raga adesso vi sento c'è uno sopra la ha provato a ammazzarmi un sacco di volte vabbè fa niente allora dove andiamo a chemical proviamo dai via chemical va bene grande nico grazie mille ma bombo allora arbor basta che lo pingate ragazzi proviamo arbor c'è anche lo shop non c'era lì accumuliamo qualcosa di soldi la chimica no arbor 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 è il ping ok fatto ciao deciso grandissimo ahah bella lì ribenvenuto 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 c'è già gente c'è già gente raga c'è gente attenzione mi sparano no sono scherba di merda dove è scappano questi chi raga oh grazie mille grazie mille ti saluto anch'io amico mio grazie deciso dai ci vediamo domani c'è gente attenzione si sopra c'è qualcosa qui eh avete accumulato soldi 800 è una miseria proprio vieni chi è che li vuole vai sono qui i miei mi sembrava mi sembrava è infatti c'è gente 3.3 visuale sul bersaglio oh attenzione ragazzi il palazzo blu davanti ho visto un vetro saltare morto mi è scena salvo ok ok quindi ci spostiamo da qua voi vi siete tutti spostati sono rimasto solo io morto avete accumulato qualcosina niente no io niente proprio zero c'è una manuola andiamo giù che facciamo possiamo andare sopra non so non è un po' che sono di pensare la guerra vediamo se c'è qualche cassola in giro 6.100 6.100 ok attenzione maria c'è lancia granate solo quelle qualcuno c'è gente c'è gente anche un 200 ecco qui maria ciao amici di twitch mi raccomando iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto grandissimi dentro possiamo ricaricare le munizioni non riusciamo a tenere a casa no non c'è abbastanza soldi ho 500 se volete soldi no non servono più possiamo iniziare o a salire o andare da qualche altra bar tagliamo va che non è io seguo ciao ragazzi benvenuti benvenuti alla live su twitch grandissimi ciao 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 colpi nebula colpi nebula questo che cos'è proiettili grazie potenziamento da campo marcato voi dite di rimanere qui o cosa facciamo i colpi nebula eh cosa sono i colpi nebula quelli questi mi vedi quale che c'è aspetta che non t'ho visto vieni vieni qua stanno qua vieni qua eccoli vieni qua mi devi equipaggiare con l1 vengono insieme l1 r1 fatto ok perfetto grande grande grazie saliamo ancora siamo sul tetto mettiamoci dai tutti insieme marco ci sei sul tetto no sali sali vieni vieni dove vai marco aspetta dove cavolo è la scala ma sei giù marco vieni e dove è la scala qua qua marco non scendere è qua è qua la scala l'ho vista devi salire marco dove vieni sono uscito marco vieni ci ah ok aspetta aspetta c'è questo c'è questo c'è questo arrivo tetto l'ho sgamato l'ho sgamato adesso non dicevo capire dove cavolo era la scala mi stanno sparando oh 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 ma da dove sparano? non lo so non ho capito da dove ah ok da living da living ma non ora da living da living ma che c'è uno là è riuscito a manzarlo grande dico non è che sta scendendo eh sì stavo scendendo ragazzi sul tetto non è che siamo proprio ma stanno sotto qua madonna stiamo finendo in acqua t'ho visto malissimo io vado sotto il tiburon dai raga siamo liberi non c'è nessuno qui? non c'è nessuno non c'è nessuno oh niente non sta toccato proprio niente io vedo che sono qua dove c'è le case gialle occhio occhio eh dei container lì cos'è che sono eccoli eccoli che arrivano giù nella casa blu eh nella casa blu eh è buono tagliato ragazzi comunque porto cacciato ho sbagliato a contro si stanno massacrata e ce n'è qualcuno che qui è in mezzo ai ai cosi verdi c'è uno qua 15 allora io le vedo quei tra i tendoni verdi e questi qua gialli e blu eh rimanete qua rimanete qua ti la facciamo di manzare sono di manzare sono di manzare sono di manzare sono di manzare c'è uno qui nei container ok l'ho segato l'ho segato l'ho segato uh ce n'è uno dietro la casa ah eccolo dov'è attenzione è dietro eh nella casa avete visto nella finestra si non è scappato non devi uscire sono due quando verranno dal gas contratto stracciato eh c'è una mazza qua allora attenzione quando c'è data la scala e ce n'è subito uno qui eh bastardo dito la porta caspita oh non non faccio tempo a cazzo non faccio tempo a buttare fuori il becco che arrivano eh i colpi ultimi dieci non devi mollare ma stanno scendendo tutti non faccio tempo a buttare fuori il becco il becco che mi fanno bene eh oh oh te li esco no no perchè ha pubblicità ahhh vai marco sei da solo rimandi là nasconditi quando entrano uuuuh mettiti sul tavolo mettiti sul tavolo appassati ok come li vedi mazzati porca loca caspita ragazzi è stato un duro colpo ma pareggeremo i conti cosa è successo perchè cosa è successo raga ci siamo ma perchè non ha dato la fine partita ah nico è uscito bisognava andare a beccarlo come ci fa a beccarlo nico come si chiamava nico nico eh non me lo ricordo aspetta l'ho trovato l'ho trovato ma perchè non ci ha fatto vedere la finale l'ho invitato grande ma cosa siamo finiti ragazzi a me non mi ha fatto vedere cosa siamo arrivati secondi secondi ah fico ci sta dai ci sta l'altro è arrivato subito dietro hai visto piero è che non avevo neanche le armi dovevo salire sul tavolo non dovevo fare così si chiamava nico buchi 87 giusto nico si credo di si nico buchi 87 via richiesta amicizia invia vita in uno ora aspettiamo un minutino altrimenti avviamo e basta si ci sta avvio beh aspetta un secondino dai che vai 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 che pure caspita che bella partita quella lì caspita si dai dai ci sto ci sto devo finire la che cofa perché li è censurata che cosa stavo parlando con mia moglie ah questo non è italiano giusto no dark nobi si italiano ciao 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 c'è un soldato nemico guido io preparate l'attrezzatura manca poco dai ragazzoli io mi faccio l'ultima e anche io faccio l'ultima perché sto sentendo proprio il peso della vecchiaia una volta facciamo le 4 di notte ti ha ucciso anche a dar che è italiano ciao dark avete sentito che vuoi parlare sì ok Io sì ho sentito adesso un attimino qualcosina, dai che siamo in live, fai bella figura grande grande dark mi sembrava una voce, ho sentito un secondo ciao amici di twitch mi raccomando l'ultima partita e rimanete fino alla fine dove andiamo? non so, alla nave nave, mi piace la nave nave, nave ragazzi, nave già piastra c'è un soldato nemico già siamo noi o è il nemico? stai sparando bastardo, ho sentito la pianta, pezzo di merda dietro la pianta? salgo cacchio 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 oh, trovate, guarda lì qua ma c'è lo shop, aspetta che lanci lo shop qua mi raccomando ragazzi seguite il canale di Marco Drums Games Channel, eh, grandissimi, grandissimi, bella lì puoi perché stai prendere le munizioni io ho dei soldini, qualcuno serve? arrivo Mario, 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 devi comprare le munizioni vieni lo buttati qua ma chi è che sta suonando? proviamo un tentativo, eh un tentativo, ultima partita, dai, dobbiamo arrivare primi prima era seconda per un pelino 21 metri, sono dentro, eh dici che sono sopra? no, porca troia, non l'ho preso no, porca troia, non l'ho preso vaffanculo non l'ho preso uno l'ho preso dal basso, eh stavo entrando arrivo dietro, dietro, attenzione cacchio chi è che c'era davanti? Mario, sento Volkswagen mi ha ammazzato vaffanbrodo no, attenzione c'è uno imboscato per terra, eh che guarda la scala dall'alto a me mi ha ammazzato dai, ma si può starli così? ma io non lo so vengo in mettersi un attimo ma per terra sono morti tutti no, ce ne sono giù tre ma vai a quel paese dai, ma ci può avere questa sfortuna vieni fuori e c'è il tipo lì che ti sta guardando ma io non lo so sicuri che dobbiamo andare ancora lì? ma perché non? perché non vanno giù? eh io sono sulla nave, eh sono proprio sopra zona ah io prendermi comunque vi sto coprendo col cecchino se dovete fare qualcosa vediamo se riusciamo intanto guarda sul tetto ok ok membro della squadra in rientro già, vado a prendermi le mie armi non ne ha scorto beh ho fatto? sei morto? che è? ho fatto? grande marietto ma come corono ciao amici di twitch ultima partitozza non abbiamo soldi per prendere una cassetta di munizioni 100 no forse neanche aspetta stavo vedendo te 200 no no c'è uno sulla scala attenzione quando salite c'è uno sulla scala proprio rimboscato ma questi si camperano sotto si si e iper mega camperati io cambierei anche il posto voi cosa dite no 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 conquista conquistiamo qua dai se non loro cosa ne devono andare quello hai ragione oh ma non vanno giù prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati vanno ahah ahah hai aspetta adesso sanno dove sono scendi 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 no da dietro da dietro raga guarda dov'era sto scemo va bene buonanotte grazie piero ciao mario buonanotte a tutti allora ragazzi ciao 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 di saluto vi aspetto domani alle ore 23 del pomeriggio adesso vediamo un po con gran turismo 7 ci vediamo domani amici miei di twitch grazie per l'iscrizione iscrivetevi al canale portate un sacco di amici e c'ho anche un canale di youtube fichissimo ciao a tutti buonanotte notte grande mario notte notte roberta notte 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 roberta grandissima sei rimasta fino alla fine grandissima brava 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 grazie grazie ci vediamo domani è gran turismo pomeriggio e poi domani sera vediamo se facciamo un world sono gran turismo insomma vediamo un po vediamo un po vediamo un po ciao buonanotte buonanotte a tutti non devi mollare non devi mollare non vi mollare non vi mollare non vi mollare a tutti gu c ы